Una pennellata di rosa ha colorato l'aula del Consiglio regionale del Piemonte a sostegno di Life is Pink, la campagna di prevenzione, sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili, promossa dalla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro. I consiglieri e le consigliere hanno acquistato e indossato la maglietta ufficiale con il caratteristico cuore rosa, che insieme all'hashtag Sostieni Candiolo firma ogni anno i molti eventi e le iniziative dedicate. I fondi raccolti durante la campagna serviranno per dotare l'Istituto di Candiolo di nuovi ecografi ginecologici equipaggiati di software di acquisizione e ricostruzione delle immagini con intelligenza artificiale. Il Consiglio regionale si veste di rosa a favore della lotta contro i tumori femminili come il tumore al seno e il tumore al collo dell'utero. Il nostro dovere è fare tutto il possibile per ridurre l'incidenza di tali patologie e garantire un accesso tempestivo alle cure. Il Consiglio regionale, da sempre impegnato nelle iniziative a tutela della salute e del benessere dei cittadini, ha voluto assumere anche in questa occasione un ruolo attivo a sostegno della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro, nata 37 anni fa con l'obiettivo di realizzare in Piemonte un polo oncologico d'eccellenza, dove far convivere le attività di ricerca e cura oncologica con le migliori risorse umane e tecnologiche. Si tratta dell'unico centro italiano realizzato esclusivamente attraverso il sostegno di donatori privati, aperto e accessibile a tutti, dove lavorano circa 800 persone, tra medici, ricercatori italiani e internazionali, infermieri, personale amministrativo e tecnici. Tutto il mondo scientifico mondiale sta lavorando e sta cercando di ottenere grandi risultati. Si ottengono con la prevenzione e anche oggi i consigli regionali fanno la loro parte. Grazie per la visione!